Ciao a tutti, come è andato il weekend? Spero vivamente che sia andato bene per tutti voi. Io sto registrando questo video di domenica sera, ve lo pubblico appena ho finito di registrarlo e montarlo. Sono arrivato come sempre, come ogni domenica, adesso dalla partita. Questa volta qua purtroppo abbiamo perso, ma poco male ci rifaremo la prossima settimana. In questo video volevo mostrarvi alcune cose che ho trovato, che mi interessavano, ma volevo chiedervi anche una mano. Perché non riesco a trovare una fonte super attendibile che mi sciolga i dubbi che ho. Sostanzialmente quello che mi sono sempre chiesto è, ma io sono sopra la media in termini di patrimonio rispetto ai miei coetanei? La mia risposta è, penso proprio di sì, ma volevo avere un po' la certezza, non dico matematica, ma per curiosità, sono a cercarmi un po' di cose che potessero rispondere appunto al mio quesito. Ho trovato queste statistiche, però secondo me hanno un paio di problemi. Tipo, se non andiamo a prendere quella di Statista, che sì è un sito molto affidabile, però a mio avviso ha un grande problema. Perché qua mi dice il valore medio stimato degli asset in Italia nel 2021 per età e tipologia. Il problema è che se noi andiamo a prendere la media non mi dà un'indicazione molto rilevante. Perché se io nella mia media vado a inserire persone come Berlusconi, che hanno miliardi di patrimonio, e lo spalmo su tutti gli italiani, essendo che il patrimonio mediano italiano è molto più basso della media, non mi dà un indicatore molto valido. Io non voglio il valore medio, mi interessa più il mediano. Non so se sapete qual è la differenza tra media e mediano, ma semplicemente se io ho 5 numeri, ad esempio, molto ravvicinati, allora la media può avere senso. Perché ad esempio, se io prendo 5 numeri, supponiamo 5, 6, 7, 8 e 9, la media sarà 7. In questo caso qua, la mediana sarà anche 7. Però se io tolgo il 9 e inserisco 100, la media, non so quale sia, comunque è molto più elevata, sarà sicuramente sopra il 20. Mentre la mediana, essendo che è il valore intermedio fra i 5 valori, rimane comunque 7. Perché è il valore che sta esattamente a metà fra i 5 valori. Ed è un indicatore molto più sensato in questo caso qua. Qua ad esempio dice che il valore medio stimato di ESET in Italia nel 2021 è di 110.000 euro dalla fascia 25-34, però mi sembra un valore troppo elevato e che secondo me, appunto, come vi dicevo, è molto condizionato appunto da tutti quei ragazzi barra signori, magari milionari, che hanno tra i 25 e i 34 anni. Perché supponiamo che io prenda un povero, quindi patrimonio zero, anzi magari indebitato, una persona media che magari ha 50.000 euro di patrimonio tra i 25 e i 34 anni e, come terzo caso, prendo un milionario, la media sarà sopra i 200.000 euro, per esempio. Però la realtà è che se io prendo una persona mediana, probabilmente sarebbe più corretta quella di magari 30, 40, 50.000 euro. Per questo, questo grafico qua mi interessa, ma nemmeno troppo. Anche questo grafico qua che ho preso ha sostanzialmente, secondo me, lo stesso problema, perché ci prende la ricchezza netta media personale per gruppi di età, però ci dà anche un'indicazione storica. Guardate come il patrimonio degli italiani è sceso dal 2008 in giù. Questo è dovuto principalmente al fatto che io penso che la maggior parte degli italiani fosse, avesse il patrimonio suddiviso tra magari azioni, obbligazioni e investimenti immobiliari, che in seguito alla crisi dei mutui subprime sono tutti crollati. Infatti vediamo come il patrimonio sostanzialmente sia sceso e non sia mai troppo risalito dal 2008 al 2014. Comunque qua possiamo avere un'indicazione e vedere che tra i 20 e i 40 anni il patrimonio medio appunto si gira tra i 20 e i 40.000 euro, tra i 40 e i 50 si aggira tra i 70 e gli 80, perché qua sono valori più corretti secondo me rispetto al nostro periodo storico, e qua vedete anche gli altri. Tra l'altro mi sono dimenticato di dirlo, ma penso lo sapete tutti, la differenza tra reddito e patrimonio è sostanzialmente che il reddito è il flusso di denaro che vi entra ogni arco temporale che può essere un anno. Quindi supponiamo che il vostro stipendio sia il reddito. Il patrimonio è l'accumularsi della parte risparmiata, quindi supponiamo che abbiate 100 di reddito, 50 di costi, i 50 se non li spendete in altre cose si vanno ad accumulare ogni anno e formano il vostro patrimonio. Se poi decidete di prendere quei soldi lì e comprare un immobile, quello farà sempre parte del patrimonio. Ovviamente è più difficile calcolare il valore reale, però sostanzialmente comunque fa sempre parte del patrimonio. La fonte forse più interessante che ho trovato è questo blog di Oval, che è un'applicazione appunto che si occupa del gestione del risparmio in Italia, e ci dice quanto dovresti avere da parte tra i 20 e i 30 anni. Qua sostanzialmente prende magari l'italiano medio che potenzialmente a questa età frequenta ancora l'università, non mi piace il fatto che nessuno si aspetta che tu abbia già accumulato un gran patrimonio a questa età, è però importante che tu abbia iniziato a familiarizzare con il concetto di risparmio. Ci sta però io personalmente anche andassi all'università inizierei a lavorare un po' magari nel weekend per darti appunto la possibilità di innanzitutto essere un po' più autonomo e appunto capire il concetto di risparmio, investimento e altre cose. Qua sostanzialmente inizia la parte più interessante in cui ci dice quanto dovresti avere da parte a 30 anni. Qua il range che ci dà è un po' grande perché ci dice che dovresti avere da parte più o meno la metà barra uno stipendio annuale. Vuol dire che se tu prendi netti magari 20.000 euro l'anno dovresti avere come patrimonio tra i 10 e i 20.000 euro. È un range un po' grande però posso essere in parte d'accordo. Poi ci dice quanto dovresti avere da parte a 40 anni e qua ci dice si aggira intorno ai 30.000 euro che è un po' discordante con quello che ci dicono dopo infatti ci dicono è che dovresti avere messo da parte un importo pari a 3 volte il tuo stipendio annuale. Quindi supponiamo che tu prenda 20.000 euro netti l'anno che a 40 anni penso ci stia e sia abbastanza normale dovresti avere da parte più o meno 60.000 euro come patrimonio che sia liquido che sia in immobili o altro. Poi a 50 anni ci dice dovresti avere risparmio più o meno un importo a 4 volte il tuo stipendio quindi in questo caso qua direi tra i 50 anni penso ci stia avere magari 25.000 euro come stipendio e quindi avere tra i 80 e i 100.000 euro di patrimonio e basta non si espone oltre. Io personalmente se dovessi darvi un consiglio ovviamente cercare di risparmiare il prima possibile anche a 20 anni io personalmente ho 24 anni non vi dico il patrimonio che ho però penso di essere abbastanza tanto sopra la media dei miei coetanei e penso che grazie all'interesse del composto sarò quasi sempre sopra la media a meno che il mondo non esploda o che gli investimenti vadano tutti male in linea di massima direi che sarò quasi sempre sopra la media. Detto questo fatemi sapere se voi nei commenti avete trovato qualche fonte più autorevole giusto perché voglio sapere io ho provato in tutti i modi ma ai giorni che cerco non riesco a trovare niente di più attendibile di questo che è il massimo che ho trovato io vorrei sapere qual è il patrimonio mediano netto degli italiani che è già un indicatore un po' più sensato secondo me. Detto questo spero che questo breve video vi sia piaciuto lasciate un bel like o un commento e ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti!